Benvenuti nel mondo degli orologi Zenowatch Basel. Zenowatch Basel è un marchio svizzero di orologi con sede a Basilea, in Svizzera. Fondata nel lontano 1922, l'azienda ha una lunga storia nella produzione di orologi di alta qualità, specializzati in orologi da polso meccanici. L'offerta di orologi Zenowatch Basel è vasta e comprende modelli sportivi, classici e da pilota, ognuno dei quali riflette la tradizione dell'orologeria svizzera, contraddistinta da precisione e maestria artigianale. La maggior parte dei suoi orologi è dotata di movimenti automatici svizzeri, garanzia di affidabilità e precisione. Uno dei modelli più celebri di Zenowatch Basel è l'orologio da pilota Pilot Classic, introdotto negli anni Sessanta e ancora disponibile oggi. Questo orologio è diventato un'icona del marchio grazie alla sua funzionalità e al design innovativo, che lo hanno reso particolarmente apprezzato dai piloti dell'aviazione civile. Inoltre, Zenowatch Basel è nota per le sue collaborazioni con altri marchi di orologi di alta gamma, tra cui spicca la collaborazione con Breitling. Questo partenariato ha dato vita a modelli esclusivi e di grande prestigio, contraddistinti dall'innovazione tecnologica e dal design sofisticato. L'ampia gamma di orologi Zenowatch Basel si rivolge a un pubblico esigente e attento alla qualità e alla precisione, ma anche alla ricerca di uno stile unico e inimitabile. Ogni orologio Zenowatch Basel rappresenta l'eccellenza dell'artigianato svizzero, testimoniando la tradizione secolare e l'innovazione tecnologica che caratterizzano il settore dell'orologeria in Svizzera. La tradizione artigianale svizzera è stata sempre al centro della produzione di orologi di Zenowatch Basel, con una particolare attenzione alla cura dei dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati. I movimenti automatici svizzeri, contraddistinti dalla precisione e dalla affidabilità, sono il cuore pulsante di ogni orologio Zenowatch Basel. Uno dei modelli più rappresentativi di Zenowatch Basel è l'orologio da pulso meccanico. Questi orologi sono realizzati con movimenti meccanici, che sono considerati una vera e propria opera d'arte all'interno del mondo dell'orologeria. Il movimento meccanico è infatti costituito da centinaia di parti che lavorano insieme in modo preciso e armonioso per garantire la precisione del tempo. Tutti gli modelli sono caratterizzati da un design raffinato e di alta qualità, e sono realizzati con materiali di altissimo livello. Grazie. Grazie.